Buongiorno ragazzi, anzi buon pomeriggio dato che le pagelle questa volta escano il pomeriggio. Sono tornato a casa, come potete vedere ho voluto attendere per farvi le pagelle come al solito con il nostro layout tutto nuovo, bello, figo, ordinato, come piace a me e credo anche che siano a mani basse alcune tra le pagelle più facili che io abbia mai dovuto scrivere. Quindi direi di iniziare subito, non prima di avervi chiesto come al solito un supporto, un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se volete esagerarci sono anche gli abbonamenti attivi per supportare, per avere risonanza nei commenti, per avere i video in anteprima e tante altre cose. Quindi siamo qua, fatemi sapere un po' la vostra opinione, scrivete anche le vostre pagelle, voglio saperle in anteprima così che io vada poi a dirvi le mie vediamo se combaciano, se matchano alla perfezione, ripeto per me queste sono molto molto facili, vediamo se le condividerete. Allora, Thiago Motta sei meno, perché è un po' il ragionamento che faccio nel video post partita. Thiago Motta ha fatto esattamente quello che voleva, e cioè gestire alla perfezione il possesso del pallone. La Juventus è stata regina del campo dal punto di vista dell'impostazione. La Juventus è stata molto brava a gestire il possesso della palla. Tutte caratteristiche che Thiago Motta richiede ai suoi ragazzi. La Juventus è stata molto brava anche difensivamente, perché a parte un tiro di Politano finito altissimo, una punizione di Politano, un calcio piazzato, quindi difficile da marcare, dove si è superato di Gregorio, e un tiro da fuori con Cesc McTominay, la Juventus non ha mai rischiato. Il punto è che la Juventus non sta calciando in porta. Non vado a preoccuparmi tanto del fatto che sia il terzo 0-0 consecutivo. Quello può capitare, anche se era 32 anni che non succedeva la Juve. La cosa che mi preoccupa maggiormente è che la Juventus faccia veramente così tanta fatica contro le squadre che chiudono ogni linea di passaggio, che decidono di stare basse, perché il Napoli di Conte ha scelto di fare questo tipo di partita, perché sapeva che la Juventus sarebbe andata in difficoltà. Questo è il dato che mi preoccupa maggiormente. Quindi quel meno è legato al fatto che ovviamente la Juventus dal punto di vista offensivo non ha fatto una buona gara, e questo è, credo, qualcosa di oggettivo e insindacabile. E dall'altra parte non mi è piaciuto molto la gestione dei cambi. Non tanto Vlaovic, quello credo che sia stato un cambio giusto, ne ho già discusso. Quanto più il fatto che l'Eventus conclude con due cambi eseguiti nella totalità, di cui uno all'intervallo è soltanto poi l'immissione di un centrocampista. Io non so se Tiago Motta non ha voluto cambiare perché comunque era soddisfatto della gestione del possesso palla o perché non considerava necessario inserire, non lo so, Bangula o Fagioli o Douglas Wiss, non ho idea. Secondo me, quando tu cerchi di scardinare la difesa avversaria e non ce la fai perché sei stato troppo monotono, cambiare interpreti e quindi qualità dei giocatori, caratteristiche dei giocatori, potrebbe aiutare a far perdere i riferimenti ai difensori che invece hanno preso le misure su quei determinati uomini. Quindi queste sono le motivazioni per cui non arriva a sei per Tiago Motta, non è un'insufficienza grave perché, ripeto, la squadra ha fatto esattamente quello che voleva lui dal punto di vista della gestione, dal punto di vista di cui si vuole tanta roba, davanti siamo ancora troppo lontani. Di Gregorio, voto 7. Io credo che quando andiamo a vedere delle partite del genere in cui praticamente c'è un grande, grandissimo pericolo, c'è una grande, grandissima parata e basta, il portere della Juventus se mi fa quella parata e me la fa anche di alto livello si merita 7 in pagella. Perché, ripeto, McTominay è tirato da casa sua e non è stato un tiro per niente pericoloso, considerare una parata sarebbe anche, secondo me, un po' un insulto. Ma quella parata sul calcio di punizione di Napolitano con Lukaku che va anche forse un po' a disturbare la traiettoria cercando di prenderla di testa, è una parata importante, decisiva la prima vera parata di Di Gregorio con la maglia della Juventus e quando il portiere della Juve ha da impegnarsi una sola volta partita e lo fa con una parata di quel tipo lì, io lo sette, io lo do senza ombra di dubbio. Savona ha avuto 6,5. Ho letto un po' di commenti combattuti su Savona, per me merita abbondantemente la sufficienza e vi dico che, secondo me, ha fatto una partita pressoché ai limiti della perfezione difensivamente su Kvara. Cioè il duello individuale Savona-Kvara, terzino-destro-ala-sinistra, l'ha stravinto, non vinto, l'ha stravinto Savona. Poi, se vogliamo andare a scavare sulla prestazione, capiamo che ci sono state delle pecche. Infatti il voto è 6,5, che è sufficiente, più che sufficiente, non stiamo parlando di un 8 in pagella, di un 10 in pagella, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto, secondo me, una partita complicatissima sulla carta contro quello che è uno dei migliori, se non il migliore forse anche, comunque uno dei migliori nei primi tre sicuramente esterni della Serie A. Secondo me il primato se lo gioca con le Ao, sono questi un po' i giocatori che andresti a mettere nelle prime due posizioni, e Savona, che a questi livelli non ha mai giocato, ripeto, per me difensivamente ha fatto un'ottima partita. Davanti, un po' insicuro quando prendeva spazio, un po' titubante, magari un paio di volte il cross lo poteva mettere di prima piuttosto che portarsi avanti la palla, poteva essere una lettura, certo. Qualche passaggio è stato sbagliato, qualcuno a mezza via, ci sono stati un paio di errori anche banali nello sviluppo da dietro? Lubbiamente, certo, 100%, ma io ripeto che un giocatore ha la sua quarta partita in Serie A, all'età che ha Savona, e senza esperienza a questi livelli, e fa una partita del genere su Vara, rendendolo inutile, costringendo Conte a cambiarlo, e lui invece si gioca tutta la partita per mezza e mezza sulla porta a casa. E ha stravinto il duello individuale, ed è stata una prestazione prettamente positiva per il ragazzo. Poi, sbaglierò, non lo so, questa è la mia lettura. Vedete un po' cosa ne pensate voi. Calulu 7, monumentale, gigantesco. Veramente, Calulu sta facendo delle prestazioni di altissimo livello e sono molto contento di questo, perché è un giocatore che io ho apprezzato già dai tempi del Milan. Mi aveva dato fastidio questa attesa nel dire sì o no alla Juventus, questo sì, è l'unico vero motivo per cui mi aveva fatto un po' perdere la pazienza, questa è stata Calulu, ma sulle qualità del giocatore non avevo nessun dubbio, bene anche la centrale, insomma è il secondo migliore in campo al pari di Gregorio, perché è il primo migliore in campo, è il compagno di reparto, nonché ieri capitano della Juventus, Gleison Bremer. Veramente monumentale. Alla fine quella chiusura che fa al 94esimo su Neres è stato un intervento di livello veramente folle e c'è solo da fare i complimenti al nostro numero 3, perché ha giocato una partita e limite la perfezione, mi viene a pensare che la presenza di Gatti vado un po' a limitare Bremer, perché questo è il miglior Bremer secondo me di questa stagione, guarda caso lo vediamo quando non c'è Gatti, quindi sarebbe interessante capire perché ha fatto comunque delle ottime partite e Bremer ha fatto delle ottime partite fino ad adesso anche con Gatti, non leggete nelle mie parole una bocciatura a Bremer quando gioca a Gatti, non è così, giocano benissimo tutti e due, però quello che ti salta un po' più all'occhio secondo me in un reparto difensivo composto da Bremer e Gatti è stato Gatti in queste prime, poi Bremer per me è tra i migliori difensori della Serie A, non so, probabilmente nei primi tre, poi possiamo ragionare insieme come centrali chi possa esserci meglio di Bremer, se non è il migliore siamo l'intorno comunque della Serie A e quindi non mi stupisce assolutamente questo tipo di prestazione che aveva già fatto su Lukaku anche ai tempi della Roma l'anno scorso o ai tempi dell'Inter, quindi è abituato a fare questo tipo di prestazioni sulla prima punta e ieri sera per la prima volta anche da capitano da Juventus dal primo minuto, quindi tanta tanta roba. Cambiaso, voto 6 e mezzo, un giocatore che ti delizia, cioè il reparto difensivo della Juve che ieri sera vedeva anche l'assenza di Gatti che secondo me in questo video di stagione è stato in assoluto il miglior giocatore della Juve, in assoluto il migliore, ieri sera giocavi senza, il reparto difensivo della Juve si è fatto nuovamente trovare pronto contro il Napoli che al fischio d'inizio era il miglior attacco della Serie A insieme a Milan e Inter quindi non stavamo parlando di una squadra con delle difficoltà, stavamo parlando di una squadra in forma che è in grado di trovare la porta. Cambiaso, Savona, Bremer, Calulu, Gatti, quando ha giocato anche Cabal, sono tutti giocatori che stanno molto bene e non stiamo ancora vedendo Danilo, cioè Danilo ieri sera si fa 0 minuti anche ieri senza Gatti quindi la retroguardia della Juve in questo momento è al massimo, veramente al massimo livello ed è il fiore all'occhiello della squadra e Cambiaso è quel giocatore che fa il doppio ruolo che non solo difensore ma anche giocatore di costruzione tant'è che l'unica vera grande occasione nasce proprio da uno spunto di Cambiaso quindi molto bene avere dei giocatori del genere, duttili, con dell'energia senza andare a diventare un giocatore molto importante per l'evento Scambiaso e quindi molto bene così. Locatelli, 6 e mezzo, ha toccato un botto di palloni così come Calulu, come Bremer, come Cambiaso l'evento serie veramente ha dominato il possesso palla non ricordo delle partite così dominate dall'evento nel possesso palla da tanti anni a questa parte maggior ragione a questi livelli quindi una sfida di alto livello in serie A Locatelli molto bene sempre lì, sempre il discorso che abbiamo fatto tante volte quando deve giocare corto molto bene quando deve aprire, lanciare, fa degli errori se vogliamo proprio trovare il perono e l'uovo ora che Locatelli sta giocando molto bene e quindi io, quando i giocatori fanno dei passi in avanti poi spero che li facciano ancora di più un po' più veloce nella manovra perché tante volte andiamo a perdere i tempi di gioco e perdendo i tempi di gioco non andiamo a massimizzare quelli che sono i tempi che vuole l'allenatore io sono ancora dell'idea che nella miglior versione della Juve non vedremo Locatelli ma è indubbio sottolineare che in questo inizio di campionato Locatelli sia uno dei giocatori migliori della Juventus che abbia fatto un cambio di mentalità e di qualità delle prestazioni che è da sottolineare McKennie 5 e mezzo ora, McKennie che gioca a titolare al posto di Douglas Lewis mi fa capire perché scende in campo perché comunque è un giocatore in grado di coprire una gran porzione di terreno io credo che McKennie in fase di non possesso sia stato davvero uno dei migliori in campo della Juve ha valato veramente tutto poi era anche ammunito quindi ha dovuto anche un pochino contenersi perché ha rischiato anche magari in alcune occasioni ha fatto un intervento bellissimo in scivolata a centro campo che gli è venuto bene ha fatto un bellissimo tacco per cercare di velocizzare la manovra io sto comprendendo perché sta giocando McKennie nel complesso però secondo me è stata ancora anzi ancora questa è stata una prestazione insufficiente perché comunque col PSV ha giocato invece molto molto bene questa è stata una prestazione completamente dedicata alla fase di non possesso invece Weston ha necessità di essere impattante anche in area perché è uno dei giocatori migliori con i tempi di inserimento che abbiamo e questo è probabilmente un altro dei motivi per cui sta giocando con Tiago Motta solo che con McKennie e Cobb Maners così larghe secondo me perdono tanto 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 dal punto di vista dell'inserimento della pericolosità in area di quanto possono incidere nella tre quarti avversaria quindi per questo dico che in totale la prestazione di McKennie secondo me è da 5,5 così come valuto da 5,5 ma anche la prestazione di Cobb Maners che è uno dei giocatori che probabilmente ha toccato più palle nella Juventus uno di quelli insieme a Ildis sono stati i loro due secondo me i due giocatori che la Juventus doveva sfruttare per accendersi e proprio per questo se poi la Juve non si accende a Cobb Maners e Ildis vado a dare 5,5 a tutti e due per due motivazioni diverse Cobb Maners perché ha sbagliato un paio di robe molto facili io credo anche che debba avere un po' più di pazienza vedo che vuole tirare un po' dappertutto c'è stato un momento in cui cercava proprio di farsi appoggiare la palla sul sinistro come unica opzione negli ultimi minuti aveva caricare il tiro e andare no, non bisogna avere questa fretta se si va a tirare bisogna farlo in ottima posizione come era in grado di fare sulla palla di Cambiaso invece ha lanciato l'A per aria Ildis secondo me ha fatto una partita molto interessante nella gestione del pallone nella pulizia del pallone tante volte Ildis è riuscito a sorpassare il diretto marcatore ma ha fatto una buona partita Ildis su Di Lorenzo non l'ha preso tante volte Di Lorenzo Ildis anzi sono state più le volte in cui Ildis è andato via Di Lorenzo secondo me però poi quando arrivi negli ultimi metri bisogna essere impattanti Ildis e Cobmeiners sono stati quei due giocatori che lì sulla sinistra potevano essere veramente l'arma in più della Juve e purtroppo non lo sono stati perché a livello di qualità e di potenziale c'erano tutte le possibilità di fare del male e molto male quando invece chiudi la partita senza avere praticamente mai tirato in maniera pulita verso lo specchio della porta all'avversario significa che i giocatori di rifinitura sulla tre quarti o gli attaccanti o gli esterni non hanno fatto esattamente il loro dovere ha dovere quindi per quanto la prestazione di Ildis se andiamo a prendere le clip delle giocate di Ildis nell'uno contro uno sono tutte clip positive perché secondo me come ha portato il palome con l'ha nascosto agli avversari come andava a sgasare meraviglioso Ildis ha anche saltato tante volte il marcatore creando superiorità meraviglioso però poi è mancato negli ultimi metri o nei momenti decisivi della gara dove devi fare la differenza per portare le case ai tre punti Nico González invece voto 5 mi è sembrato un giocatore distante dai livelli che abbiamo visto col PSV non mi è sembrato pimpante come Ildis anzi tante volte lo vedo stringere anche un po' troppo Nico González è uno molto bravo di testa quindi probabilmente si sta cercando di avere questa soluzione sul secondo palo per andare a colpire di testa con quei cross nati tutti da Ildis sono stati tre cross nel primo tempo tutti di Ildis però secondo me non ci va ancora con i tempi giusti Tiago Motta ha parlato di tempi di inserimento in questa partita invece che parlare di quanti giocatori vanno in area lui dice doveva entrarci con i tempi giusti io credo che Nico González sia uno di quelli che deve entrarci con i tempi giusti mi sarebbe piaciuto vederlo centroavanti al posto di Vlaovic con Wea sulla destra questo è un esperimento che farei successivamente piuttosto che lasciare Nico Largo e Wea in centro Vlaovic foto 4 non ho né tempo né voglia di stare nuovamente qui a parlare della partita di Vlaovic perché l'ho già fatto nel video che ho caricato stamattina e che ho visto avete visto scusate il gioco di parole in tanti quindi vi rimando direttamente lì se invece ancora vi è sfuggito quel contenuto però se vieni sostituito alla 45esimo del primo tempo dopo aver toccato 6 palloni e averne sbagliati 3 è una bocciatura pesante se non pesantissima difficile da camuffare che Tiago Motta ha battezzato come sostituzione legata a una scelta tecnica quindi c'è poco altro a discutere peggiore in campo a mani basse Vlaovic e Lukaku hanno fatto una brutta partita dovevano essere gli uomini in copertina sono stati gli uomini in copertina per il negativo secondo me tutti e due Wea voto 5 e mezzo è entrato ha fatto dei movimenti interessanti non è stato mai servito però a me è sembrato un po' un pesce fuor d'acqua in quella posizione un paio di scarichi fatti bene sì però per essere il centravanti della Juve secondo me serve un qualcosina di più rispetto a un paio di scarichi un paio di movimenti in cui non viene nemmeno servito c'è stata un'occasione all'ottantottesimo che poteva diventare un remake di Zazzo 88 dove invece Wea è stato chiuso ed è nato un calcio d'angolo per la Juve più di questo null'altro quindi 5 e mezzo Turan voto 6 entrato per mettere muscoli e centimetri a disposizione della Juve gli ha messi purtroppo non è stato sufficiente il suo cambio il suo ingresso in campo e per quello che vi dicevo all'inizio mi sarebbe piaciuto vedere anche qualche sostituzione in più quindi ragazzi queste erano le considerazioni che avevo da fare su questa partita queste secondo me sono le pagelle più giuste e ripeto uno dei contenuti legati alle pagelle più facili in assoluto da fare perché non dico che si siano scritte da sole ma quasi le valutazioni erano abbastanza secondo me oggettive in questo caso più che soggettive ma aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti per capire se effettivamente sono state pagelle così facili oppure no se sono giuste o se sono sbagliate ciao a tutti ragazzi ci vediamo domani ciao a tutti